Grazie a tutti. Grazie. Speriamo di... Allora siamo pronti, sono lì. Quindi siamo in perfetto orario, si giocherà su questo campo, la partita della categoria primavera 2 tra Brescia e Renati. Noi conosciamo tutte e due le squadre perché abbiamo seguito tre partite del Brescia, una del Renati. E quindi sappiamo le potenzialità di queste due squadre che stanno... Sono partite bene, non c'è niente da dire. Però siamo all'inizio, quindi il campionato è lunghissimo. Quindi è ancora presto per fare delle previsioni a lungo termine. Quindi non abbiamo le formazioni, quindi speriamo di poterle avere. So che ci tenete molto a vedere chi gioca, ma presso a poco la formazione non si scosta molto da... Io adesso da lontano i ragazzi non li conosco. Ho già imparato, il numero 10 dovrebbe essere Orlandi, il numero 9 Ferro, che è anche il bomber della squadra. Quindi dovrebbe esserci in porta cortese, io bene o male la formazione del Brescia l'ho imparata. Adesso vediamo se poi... Alta, 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 alta... Alta, alta, alta... Alta, alta, alta... Che è 1961, che è 17 quindi l'ho imparata. Ecco sempre! capelli! ень tensionele ora voglio piegare. Adesso vediamo le мо notice, la nonetheless, il elemente va terra. Quale è spun Fedora, cosa è accurata quando haiщinko amica. e c'è la prima conclusione verso la porta alta ed è arrenata neanche tre minuti è una bella occasione questa perché hai la possibilità di calciare in porta da buona posizione alza troppo il tiro quindi sfuma questa conclusione la prima della partita di arrenati non alzatevi se fa gol grazie 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 possiamo spendere anche qualche parola sui settori giovanili sia del renate che del del barescia sono due settori giovanili che lavorano benissimo renate una piccola realtà ma piccola come come dimensioni adesso lì c'è la prima vera palla gol per il renate pallone che si stampa sul palo poi ritorna in campo lì c'è voluto andare con la testa forse era più giusto andarci con con altre parti del corpo e non con la testa però nulla di fatto ma era il renate pericolosissimo sono passati solo cinque minuti risponde subito il barescia con questa incursione in aria fa buona guardia poi un altro pallone messo bene dentro dalla sinistra partita subito 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 Adesso c'è un gioco duro centrocampo, l'Abitro lascia giocare, non interviene, si chiama Teckel, contrasto, adesso qua invece l'Abitro è sempre vicinissimo al pallone, una volta fischia la punizione a favore del Brescia, siamo proprio sulla linea di metà campo, adesso il pallone torna indietro, torna nella metà campo del Brescia, c'è sempre questo diciamo come si chiama, come si dice, dubbio, è meglio fare la primavera 2 o andare in serie D, è meglio fare la primavera 1 come fuori quota, andare in serie D, qua c'è una quasi una unanimità nei giudizi, è meglio fare una prima squadra. Io invece ho qualche dubbio, hai la formazione, qualche dubbio in proposito, perché in primavera è la seconda squadra della società, quindi dalla primavera 2 puoi andare in prima squadra, puoi esordire, puoi aggregarti, quindi io dico è meglio, però queste sono tutte mie opinioni personali, non ho niente di certo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Mi sembra che sia fuori gioco. Ha fischiato l'assistente. Questi sono palloni pericolosissimi messi in area, tagliati. Proprio metà tra il portiere e tutta la linea che si sposta. In effetti qua si è rischiato anche l'autogol perché i difensori poi devono correre all'indietro e non riescono a colpire il pallone bene, questi palloni tagliati mettono sicuramente in difficoltà tutta la retroguardia, la difesa degli avversari, bisogna sfruttarli bene, Brescia a momenti... Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 ma ci sono già state diverse occasioni gol da ambo le parti, pali e traversi... c'è ancora un bel sole, temperatura... sono 25 gradi qua a Brescia, quindi una temperatura tutto sommato gradevole... siamo in ottobre, quindi dovrebbe... grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi abbiamo proprio una... un'ostilità in quelle videocamere lì che sono, diciamo, intelligenti, proprio perché quei pali lì alti, ormai li usano tutti, li si piazzano all'esterno del campo e... come vedete a volte vengono anche... a infastidire, a impallare... ci mancavano solo quelle videocamere lì? bello questo anticipo, bisogna sempre andare incontro al pallone... buono anche... buono anche il cross, però... è un po' troppo lungo, non c'era nessuno... sulla... diciamo... sulla corsia di sinistra, bisogna sempre... partire largo e poi a centrarsi, invece... in questo caso, chi era largo si è andato a centrare, lasciando scoperto... la parte sinistra del campo, però non c'era nessuno lì del Renate a raccogliere questo... lungo traversone... adesso riparte ancora... il Brescia... vedete... con quanta abilità riesce Ferro a tenere un pallone difficile... poi a giocarlo anche bene... sicuramente uno dei... degli elementi di spicco di questa Primavera 2... è un fuori quota, perché è un 2004... ma è uno che in questo campionato può fare la differenza... proprio... per le sue doti tecniche... le sue doti... anche di realizzatore... sta giocando bene il Brescia... anche se è un gioco un po' lento... però fa viaggiare il pallone... lo fa viaggiare da una parte all'altra del campo... quindi ha un gran possesso palla... anche se poi alla fine... produce poco... però... tiene sempre schiacciato l'avversario nella sua metà campo... quindi un... si prendono tutti i dati possibili... immaginabili... i passaggi... la parte del campo che occupi... la corsa che hai fatto... il tempo che ci hai messo... diventa tutto... diciamo scientifico... ma... io che sono della vecchia scuola... queste cose qua... non mi interessano... io... una volta si diceva... palla lunga e pedalare... adesso non si sente più... perché... adesso è tic toc... tic toc... si cerca di tenere il più possibile il pallone... soprattutto quando le squadre sono... sono... chiuse... sono coperte... e quindi bisogna far girare la palla... proprio per cercare... dei varchi... degli spazi... dei... adesso c'è un'infortuna... è stato colpito al viso... il giocatore del Barescia... che è a terra... adesso ne approfittano gli altri... per una pausa... per dissetarsi... anche se... domani ci fermiamo ancora... a Barescia... siamo... al mattino... l'Under 15... con... la Ferral Pissalò... e... il... pomeriggio... alle 15... con... l'Under 17... Brescia-Monza... una partita... di alta classifica... quindi noi avremo... speriamo... il... l'arbitro è sempre lì... vicino... al pallone... quindi... vede benissimo... gli interventi... fallosi o meno... dei giocatori in campo... e adesso è il Renate... che pressa... a uomo... anche... pressa alto... quindi non aspetta più... ha cambiato... diciamo... atteggiamento in campo... ha cambiato... tattica... adesso qua c'è uno scontro fortuito... senza voler... praticamente... praticamente... ha smarazzato... secondo me... ha colpito... il giocatore del Renate... che stava... marcando da dietro... il numero 11 del Brescia... ha avuto la peggio... ma... secondo me... lì... non c'è una volontarietà... perché... sono incidenti di gioco... bravo... bravo... adesso non so... chi è stato ammonito... se il... massaggiatore... o... il giocatore... ma credo... il massaggiatore... forse... per proteste... perché... non aveva fermato il gioco... l'arbitro aveva... lasciato... anche qua... sempre... sempre... delle contestazioni... anche qua... la regola... mi sembra... un po'... fumosa... o il pallone... si butta fuori... o è l'arbitro... che... che deve fermare il gioco... ma non... ma... è a discrezione dell'arbitro... l'arbitro lascia giocare... deve... infatti dice... che il numero 4... deve uscire... e deve rientrare... quando lo dice lui... perché aveva... ha chiamato... fate un arbitro che... e adesso lo fa rientrare... anche questo è un contrasto regolare... però... si fa male il giocatore del Brescia... probabilmente quando... tutte e due si sono fatti male... quindi... si sono... azzoppati a vicenda... anche se il contrasto... mi sembrava... sia da una parte che dall'altra... regolare... però... non... si... azzoppati... non... 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 Grazie a tutti. 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 Buon Renate in questa fase di gioco. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. anche a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 si era. a tutti. non ti puoi. a tutti. 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 a tutti.